Lutto nel calcio italiano per la morte di Claudio Garella, l'ex portiere morto nella notte a Verona, all'età di 67 anni per problemi cardiaci dopo un intervento chirurgico. Garella fu il portiere del Verona, dello scudetto della stagione 1984-85. Era stato soprannominato Garrelick, era famoso per essere molto bravo a parare anche con i piedi. Con la maglia giallo-blu ha giocato per quattro anni con oltre 100 presenze. Dopo l'esperienza, Lella si è passato al Napoli dove ha conquistato il primo storico scudetto degli azzurri del 1986-87 con Diego Maradona e in panchino Ottavio Bianchi. Lo stesso anno vinse con il Napoli anche la Coppa Italia. Grazie.